Grazie a tutti. Grazie a tutti. Undici presenti e un'assente. Una seduta è valida. Prego di mandorci in piedi. Grazie a tutti. 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 Siamo quindi a votazione. Ognuno avrà la presenza? Mi fa ora? Si approva. Punto 2. Sistema di analizzazione dei relitti statali presenti nella zona D2.1, zona produttiva, carattere artigianale esistente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. C'era un'altra partigianale, c'era un'altra partigianale, c'era un'altra partigianale, una piccola fascia, che inizialmente era un relitto stradale, nel quale avevano acquisito di fatto la proprietà, che si è prestato così, però non era stata mai riscritta. Quindi è andata sistemata catastralmente quest'arte in modo da dare la possibilità di poter redigere il progeno del parire. Allora, oggi stiamo qua andando a stepanializzare quelle aree che erano delle relitti stradali. Allora, se qualcuno ricorda, sulla via del San Cosico, in prossimità di una zona artigianale, c'era una casetta inizialmente dove c'era pista ciclante. Di fatto abbiamo pagato gli espropoli, già è nostro, però non era mai restata sdemanializzata né catastralmente sistemata. Quindi oggi stiamo andando a sistemare catastralmente questa posizione per dare la possibilità a questi relitti che si trovano, per la maggior parte, nelle partigianale interessate di legge, ma forse c'è qualche altra piccola parte anche nelle partigianale successive, per sdemanializzare quest'area, sistemarla catastralmente e dare la possibilità ai legiti in novità di oggi di poter essere intestate. Non ci sono, siccome in occasione della commissione che è stata fatta, dove deve consigliare valiente, valente, se c'erano delle spese per il comune, se c'erano delle compensazioni, no, perché di fatto tutta la parte economica è già stata sistemata, mancava soltanto tecnicamente trascrivere queste partigianale. Stiamo facendo attraverso questo punto. Grazie Sindaco, ci sono interventi. Prego, signor Polizio. Mi chiedevo, la stessa domanda ha fatto una missione, se la parte del comune è da parte dell'ufficio tecnico o dall'ufficio autistico, ci sia andata una verifica, quindi, su tutta la zona di Parate, in modo che ci sia un tipo di un unico atto e non di volta in volta a... Non posso dire che in parte le partigelle sono più di qualcuno, una roba che sono una fianca all'altra e che ne sono più lonti. In pratica questo è successo, ci siamo accorti di questo errore, diciamo, errore fra virgolette catastale, che è stata marcata all'epoca sistemazione catastale, perché oggi questi locchi sono stati dati in proprietà. Quando precedentemente questo stesso locchio era stato dato in concessione e quindi non c'era di scontrollare la notarica, non è verso niente. E verso oggi però con questa situazione sistemiamo tutta quella fascia. Stiamo capito bene se ne ha fatto una verifica... Generale si nota con l'altra. Perfetto. Infatti le partigelle compressate sono la 1491, 1492, 1161, 1163, 1167, dal foglio a quattro. Allora, ci siamo ultimamente, prego. Mi riallaccio a quello che diceva il consigliere Polito, che è quello che abbiamo detto in commissione. Avevamo chiesto appunto che si facesse un'analisi di tutto, perché chiaramente questo per te costituirà un precedente. Quindi è chiaro che poi, se ci comportiamo così in questa situazione, poi in qualunque altra situazione similare, poi dobbiamo adottare lo stesso principio. Quindi chiedevamo solo per questo, per comportarci quel motore con tutto il resto, qualora si dovessero verificare. Grazie. Grazie. Da quello che mi ha riferito il dirigente precedente, l'ingegnere Gini. Con questo, stiamo sanando tutta quell'area per quelle che erano delle discreanze che erano. Allora, sono sanando tutta la parte del 20. Passiamo a votazione. Votiamo per il punto 2, estremalizzazione del interstratale presenti nella zona D2.1, zona produttiva a carattere friggiale esistente. Per favore? Una limitata. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Per favore? Un'immediata. La delibera è presa immediatamente eseguibilità. Passiamo al punto 3 e al punto 4. La discussione insieme. Sopriamo insieme. Il punto 3 è tasso per l'occupazione di spazi della Repubblica di Dosa. Il punto 4 è un posto comunale sulla pubblicità del CPI e i diritti sulle pubbliche a missione. Approvazione della tariffa per entrambi per l'anno 2019. Grazie, buonasera a tutti. In progetto dell'approvazione e del bilancio di previsione ci accingiamo ad approvare le prime delibere. Per quello che concerne la serata, abbiamo l'occupazione di spazi alle pubbliche e quindi l'imposto comunale sulla pubblicità. Quindi all'interno della delibera non è altro che l'approvazione delle tariffe che abbiamo degli anni precedenti e quindi l'approvazione del quantum dovrà essere inserita all'interno del bilancio. Che in maniera rispettivamente abbiamo appunto. Per quello che riguarda la tassa di occupazione delle spazi delle aree pubbliche avremo un'entrata stimata e ho inserito e stare inserita poi nel bilancio, come avremo modo di discutere poi nella prossima commissione che abbiamo un bilancio che è comunque la prossima settimana, l'importo di 70.000 euro. Quindi l'assistato che abbiamo avuto l'anno scorso. Quando parliamo appunto di imposta sulle aree pubbliche parliamo appunto delle ferie di vestaggiamenti ma anche l'occupazione delle petane, delle aziende, cioè riferiamo a quelle cose. Per quanto riguarda invece l'imposta comunale sulla pubblicità, i cibi, abbiamo avuto un incremento di 2.000 euro e quindi la previsione di bilancio quest'anno da 7.000 sarà 9.000. Ovviamente confermando poi tutte le tariffe come negli anni precedenti. Per quello che concerne invece le prossime deliberazioni, quanto ci vedremo per la commissione vi sottoporto all'analisi sia il regolamento poi delle entrate e quindi quale tariffe dell'atare che saranno poi determinate. Per quanto riguarda poi l'aiuto invece sarà tutto fermo, non ci sarà nessuna variazione rispetto ai miei precedenti. Questo per parteciparvi insomma al lavoro delle prossime settimane. Grazie Assessore. Ci sono interventi? No, se non sono interventi, questa è la votazione. Proviamo per il punto 3, passa per l'occupazione di spazi delle pubbliche, che devo salto. Approvazione della tariffa per l'anno 2019. Chi a favore? 9 a favore? Astenuti. 2. Consiglio approva. Vediamo che per questa tariffa per l'anno 2019. Chi a favore? Chi a favore? 9 a favore? Astenuti. 2. Consiglio approva. Vediamo che per questa parla con l'immediato di proseguibilità. Chi a favore? 9. 2. Astenuti. Ci sono interventi? No. Quindi possiamo concludere il nostro consiglio comune. Mi ringrazio per la partecipazione. Si, il financio dovrebbe essere... E beh, fatta siano, probabilmente dovrebbe avere l'1 a marzo, dovrebbe perché 28 siano il nostro paese e la siano il mondo, ma quindi dovrebbe essere un po' di più. Siamo un po' di più. Siamo un po' di più. Siamo un po' di più. Allora. Non c'è. Grazie. Grazie a tutti.